Dopo quello che è successo a livello nazionale erano da levare e poi i partiti decidevano di fare un candidato per la presidenza della regione, a mio giudizio. Non hanno guardato a nessun interesse del paese, ma hanno guardato soltanto a fatti personali, individuali e non aggiungo altro. Ce l'ha un po' quindi con Conte? No, no, non ce l'ho con Conte, è Conte che ce l'ha col paese. Io non so, con nulla non ho nulla da contestare. Francesco Giro, come in come si l'ha inventato, non è che non scrivo, non serve solo per una versione di Poggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.